Tra pochi giorni partirà il Gay Pride, la prima volta che parteciperanno anche il Presidente della Camera Boldrini e il Ministro Idem. Sono ministri, uno è ministro dello Stato, della Repubblica, l'altro è Presidente della Camera, quindi sono rappresentativi di tutti gli italiani, indipendentemente dalle loro convinzioni personali. E quindi penso che facciano bene come vanno alle processioni, come vanno alle feste patronali, come vanno ai raduni di partito, fa benissimo ad andare senza discriminazione di sorta, senza dire che vanno a Gay Pride perché c'è, perché è il Gay Pride. No, vanno ad una manifestazione di un gruppo di cittadini che hanno dei contenuti che possono essere, da alcuni possono essere condivisi o non condivisi, punto. Sono cittadini senza nessun aggettivo di coloritura o collaterale. È fondamentale che il legislatore, chiunque esso sia, qualunque convinzione abbia, parta dal dato di fatto che il diritto è personale e indivisibile. E se è personale e indivisibile significa che la società deve essere tutelata prevalentemente nei diritti. Oggi questi diritti non ci sono. Sempre la Chiesa fa politica e la fa in un modo positivo o negativo. Quella che fa la gerarchia è una politica negativa perché è un politicismo, nel senso che cerca accordi per gli interessi e per spartirsi dei privilegi. Mentre chi fa politica sulla strada non cerca i propri interessi ma cerca il servizio verso coloro che non hanno voce. Oppure, come faceva Don Gallo, dava consistenza a chi non veniva nemmeno ascoltato. Secondo lei arriverà un momento in cui anche alcuni preti potranno andare a partecipare a un Gay Pride? Beh, io penso che questo dipende più dalla volontà dei singoli. Per esempio il Gallo vi partecipava senza problemi. Lei parteciperebbe? Io parteciperei.